Un ritorno alle origini con la sigla della nuova 488, che rappresenta la cilindrata unitaria vecchio vezzo per le vetture del cavallino. Il motore infatti è un V8 di 4 litri e 670 cavalli a 8.000 giri, in grado di accelerare da 0 a 200 in 8 secondi e 3, e il tutto con una velocità massima che può superare i 330 orari. Con la 488 a Maranello sono riusciti insomma a sintetizzare in una vettura da turismo le conoscenze acquisite dalla Ferrari nelle competizioni di Formula 1.